1 Cacciatore Tutte due mappe Sarebbe da cacciatore non lo so, non neanche ho guardato cosa cazzo ho scelto Crisis beta Rispetto alla beta dei due di Okan qua ti fai prima di cattare il server per partire Se ti ricordi che avevamo molto tempo per andare dentro di Okan Si fai prima di trovare la partita qua si si è ovvio Confruttare l'altro si Questa roba di Okan sto intro Lo vedi anche tu? No sto caricando National Gunport New York City Si sto andando anch'io Mi è passato uno davanti Ok salta Occhio si è la modalità cacciatore quindi è solamente l'arco Hunter si Select Bene perfetto Wow Invisibilità perenne Fantastico Posso portare il file Oh Ehm È massata la gente Ehm Ecco qua uno Ehm Cosa Ehm Va in figa 90 secondi da andare Ma si può capire Ma porco Dio, ma questo? Questo è fermo. Tag, morto. Dai, non ho capito io di spazio, che adesso uno di Oka non moriva. Perché? Morto. Forse che non sia staff. Ecco qua, ecco qua. Cazzo è successo? Morto. Ma con il mirino Dio, ho appena tochi, porca puttana. Si gira subito. Che p'è? Questo non mi ha visto. No, ma non so come funziona sta cazzamodalità. E dobbiamo star la gente? Eh no, però non so che... Ma! Ong! Uh! Uuuu, mi ha preso via via scappa 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 scappa. scappa, 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 scappa 30 secondi non è un'opzione 30 secondi, f***a madre tutti si rincorrono tutti si rincorrono insieme quando vado giù l'energia ritorni visibile 3, 2, 1 pausa fine del tempo partita 5 a 0 ho fatto io yeah così ranger, sniper, close quarter close quarter pompa ranger, ranger, via via no loro si, presumo che più o meno tu non hai l'invisibilità non c'è un cazzo loro possono dilaniarti ma sbaglio corrono più i soldati di Black Ops 2 dio cazzo tu sei tipo un marino normale non sei qua vanno tutti a morire qual cazzo qua vanno tutti quindici vabbè molta esperienza così a gratis cazzo non cazzo cazzo che cazzo è un cazzo che cazzo 60 secondi resta in cover keep calm ft camo t camo ricarica sto coso che non capisco che cazzo di arma sia sono vicini dove cazzo è sento il rumore eccolo infatti truck morto guarda guarda dove cazzo era sopra l'aereo oh è la madonna che frecciata che ha mattiato questo sono diventato anche io della coronato tuta aspettate questo gioco qua non lo prende Roma 3 celli guarda ora non si 2 left ma perchè sono passati io cambio di libie bene fantastico ah round 2 su 5 ah però tipo una cosa proprio da niente non so cosa siamo adesso quella è la notuta o senza ma che ne sono e vai ancora senza una notuta ma che ne sono e vai ancora senza una notuta ma ma ti vedo correre è bruttissimo dio che mi ha dato correre l'omino ci sono i lag si vede esatto fassati normali non fassati occhio c'è gente vicina eccovi cazzo sono cazzo 90 secondi fin cazzo questo cazzo sta a fare con i campanati Mi starò della fede. Un minuto per andare. E' vicino uno stronzo ma non lo vedo però. Un minuto per andare. Un minuto per andare. Si è uno degli ultimi attacchi. L'arma più inutile della storia... Survive Hunter Attack... Perché noi siamo stati sempre segati da invisibili, no? Teoricamente. No, io non sono mai morto da linee invisibili. Ah, allora no, allora non è come... Dove cazzo sei che sento il rumore? Ah, perché vedi i tuoi soldati di Okan dove c'è il timer di Okan? Ah, cos'è la chicaina? Sniper di Okan? Cosa è successo? 60 secondi da andare, gli aiutatori a un giorno. Ah, stai passando il livello. Ah, può essere. Cosa! Cosa è che stai? Ah, cosa è? Cosa è? Cosa è? Oh, è morto! Cosa è morto! Cosa è morto? Cosa è morto? Diciamolo niente, chiamolo niente, non lo so. Eccolo, dove cazzo è? Veglio di puttana, eccolo qua. Oh, non li vedi loro invisibili? E' fatica, sì. No, no, proprio non lo vedi, dio, cazzo, mi era davanti, io lo, cioè, io lo, non miravo, ne stesso, lo guardavo, ma non l'ho visto. Più, non lo so provvissuto. E' l'ultimo. Teoricamente mi sono invisibili. Vai di beta. No. No. Cazzo, spara. Ah, così, aggete un cazzo da fare, allora. Spara, gratis. Ioca, ma non ricarica. Ma no, non lo so. Ioca, questo qua ha già scoperto vari glitch di Ioca. Il gioco del cazzo. Mi sa che ce n'avevi uno lì. Eh, lo preoccupa. Uno l'ho ucciso. Cioè, in realtà, l'ho ucciso due, ma... Sì, è che in realtà mi servivano munizioni, perché non è che ne abbia tantissime. Dove cazzo? Ma dove cazzo era? Sì, ma dai, farlo in mezzo... Oh, invisibile in mezzo all'erba. Vada, tac, morto. Fantastico. Dove cazzo sono, non c'è nessuno. Cazzo, ancora roba lì che buttano a fare, ancora? Vado qua a tirare lentamenti mostruosi. Oh, qua. Vada, chi è che mi ha ucciso? E questo si è messo nell'angolo. Vada, finito. Sì, è arrivato quinto. Bene. Oh, spero il video vi sia piaciuto e... Al prossimo gameplay, questa era solo una beta. Ciao ragazzi.